La murgia è diventata protagonista di importanti scoperte come quella dell'uomo di Altamura e delle orme di dinosauri e da queste scoperte hanno avuto origini brillanti idee come quella del bosco sauro in tenuta Sabini. Oggi si tiene la presentazione del percorso naturalistico e didattico, le cui porti si apriranno il 10 luglio, come Rosani Nivaggi della tenuta Sabini. Si realizza oggi questo vostro sogno? Sì, innanzitutto grazie di essere venuti. Sì, diciamo che si realizza questo sogno, una cosa che si realizza da bambini. Siamo orgogliosissime di aver portato a termine questa idea che ci è venuta un po' di tempo fa e quindi siamo entusiasti di presentare questo percorso. Come è nata e quando è nata? Allora, questa idea è nata circa due anni e mezzo fa e diciamo che ci è venuta così in maniera molto spontanea. Diciamo che è lo stesso territorio che ci ha richiesto, ci ha dato la chiave per questa idea. In primis questo luogo, insomma qua come vediamo, questo habitat naturale e quindi questa è un'azienda agricola e piena di animali. Diciamo che l'abbiamo voluta rivisitare in chiave evolutiva partendo appunto dalla preistoria. In secondo luogo anche perché abbiamo risposto semplicemente a un'esigenza territoriale. Appunto insomma abbiamo un forte senso di appartenenza al territorio e quindi ovviamente Altamura come l'intera Puglia è terra di notavoli ritrovamenti di orme e quindi ci piaceva fare questo connubio tra la storia del territorio e la riproduzione quindi tangibile degli autori di queste impronti appunto che noi abbiamo voluto chiamare i giganti della Murgia. Tutto qui. Cosa potranno vedere i cittadini e i turisti? Allora questo è un percorso che noi abbiamo appunto voluto chiamare naturalistico didattico appunto perché viene fatto all'interno di un borsco su percorsi già esistenti. Ci sono circa 25 riproduzioni di dinosauri, alcune in forma statica e altri cosiddetti animatronics che quindi riproducono movimenti di occhi, di testa, di coda e suoni e quindi viene un po' riproposto quello che poteva essere l'abitato naturale insomma del mondo dei dinosauri nella preistoria. Successivamente dopo questo percorso ci potrà essere una parte didattica con dei laboratori didattici per i bambini degli scavi poliontologici, dei laboratori tipo porta un'impronta a casa dove i bambini potranno riproporre la loro impronta e portarla a casa come anche è stata allestita una mossa di quadri di dipinti sui dinosauri dell'autore Giuseppe di Lena ed è in fase di allestimento anche una sala multimediale con dei filmati in 3D girati appunto in questa azienda. Sarà possibile visitare il Bosco Saro tutti i giorni? Sì, allora noi la nostra azienda apre le porte lunedì 10 luglio dalle 9.30 e sarà possibile visitarla tutti i giorni dalle 9.30 alle 13 e dalle 16 alle 20. Siamo operativi insomma per tutta l'estate. Su organizzazioni per gruppi di persone abbiamo anche intenzione di fare dei percorsi ad acta per gli adulti svolti all'alba o in orari serali che abbiamo voluto chiamare appunto alba saura o notte saura e questo. Iniziative come la vostra potranno anche essere utili per incrementare il turismo al Tamurano? Certo, io ne sono convinta o perlomeno insomma ci impegniamo affinché questo possa accadere. Io credo che noi al Tamurano abbiamo una grandissima eredità. Il nostro territorio è pieno di cultura e pieno di tantissima storia e quindi credo che saremo dei grandissimi attrattori culturali.